Una parte del nostro spettacolo è dedicata a quelli che hanno l'obbligato per il proprio territorio, che poi sono stati dedicati come dei malfattori, come persone di confondo. In realtà questi hanno sempre combattuto con il disegno della propria terra. Parliamo dei brillanti, persone alle quali ne vogliamo conto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.